Ma buon dia a tutti amici di Doppia Frizione Siamo finalmente qui, tornati in questa magnifica giornata di domenica Non è vero perché ha iniziato a piovere E siamo qui per la quindicesima settimana degli incidenti dal mondo Quindi senza tante chiacchiere direi di iniziare subito Inizia bene, vediamo eh Ok, scada Fabia Il suono, attenzione, è troppo largo Ok, ha limitato i danni Però non so se riesce a ripartire No, non è riuscito a ripartire C2, sempre stessa curva Per del controllo Fuori di culo Uh, su un lato poi si è rimesso a posto Suzuki Swift Vecchio, vecchio Ha grattato qualsiasi cosa nel muso Proprio ma per qualsiasi Madonna Ecco, io ho paura che la mia telecamera faccia così Cioè che muoia completamente sotto una macchina C'è il Saxo non molto modificato Contro un muretto Il cappottone Mi riescono a uscire, sì, tranquillamente Toyota Corolla Sempre il muretto Quel muretto mi sa che lo dovranno rifare alla fine gara BMW M3 Sullo sterrato Non mi sembra una buonissima idea Infatti, attenzione Campi, campi, la tiene, campi, la tiene 360 E cappottone È andato più o meno così Attenzione, un Civic Un Civic era da tanto che non lo vedevo in un raro Attenzione, prende la botta incredibile nel muso Non ho visto più niente BMW controllo del censo Spugli Era un Audi Madonna che botta Dritto, dritto Alperino Evo Inizio di Evo C'è una curva C'è una curva Ho messo anche la freccia per sbaglio Alpero Porsche Ok Ah, prende il controllo Di solito va a finire Uh, che bello Fiesta Fiestino Tom Che tengo è anche questo Riparte Oh, ammaccata Oppure che vada fuori a breve Visto che è ripartito Attenzione Uh, porco Cane Mamma mia Altro Porsche Oggi Porsche vanno Mamma mia C'era una persona che stava correndo Altro Porsche Incredibile Sul suo Porsche oggi Maron Che botta 106 Attenzione Su, gato Non è successo Non è assolutamente successo niente Mi è solo caduto il cellulare Un chilo E' dato buon rumore Ma dove va? PS3 Trittissimo Trittissimo Un botto Ok, non si è fatto niente BMW BMW Eh Anche questo Pago Pago un botto Non chiedetemi come ha fatto cadere il cellulare Non lo so 106 Traversi Questo qui E' il Guarda che botta E' il rally Due laki Prima di mette Audi Nello sterrato Se è proprio infossato C'è quello che non ritiro più su Un'altra Audi Sempre lì Sempre lì È un ritrovo per Audi Ecco BMW Ha tirato via un cancello Un cancello gigantesco Ok, va bene Non lo posso Non lo posso Credo Non ho ancora una scatata A questo punto Ok Per neccolo sotto Madonna Sotto il guardraio è finito No, non ti faccio un'altra Mamma mia Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? E' un Audi E' quello del campionato di TM Probabilmente Ok, questo qui è Il costo mi sembra Il rally del costo E' probabile Madonna che botta Non lo posso Contrò Ha una barriera di terra Adesso non lo so Adesso il monoposto È molto probabile Ok BMW Contrò fuori nel muro Tutti i posti dove poteva andare Nel muretto Mamma mia Che bottone Anche questi Però Si è rimesso in strada Questo dovrebbe essere Un 207S2000 Beh Si è stoppato l'audio Oh mio dio Che botta Lunghissimo Arrivato Due ruote E poi ha iniziato a cappottare Bruttissimo 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 Oh Oh Perde controllo Madonna Anche questo Era pesante Ah questo qui è un incidente di UFF E poi c3 nuovo R5 Sradicato due ruote Sradicate completamente C3 Agrope Cos'è un mic 5BF Il tipo ha detto 5BF ed imposto che 3rd Rift Quindi è andato drittissimo Anche questa qui è andata drittissima Si è campionato NASCAR Prende fuoco Cos'è? Che sta succedendo Ah il motore Eh Cos'è che ho detto io? Che pendeva fuoco Uuuuuh Maro McHenna Velocità incredibile Quasi a prendere Tipo davanti Ok Oh Porsche contro Mercedes Lo gira Ci sono i coni Infatti E niente Si porta via un cono E adesso Ah ok Si è risolto subito Blackpain comunque era Oh In incontananza Si vede un Porsche Ooooooh POP Tutti Cioè Tutti L'hanno L'hanno Deviato al pelo Proprio Cos'è Toyota Supra Già Mi sembra di sì No è un Lexus Dovebbe essere la LFA Probabile Un tocchettino POM NSX contro il GTR È andato contro il muro Lui era brutto Lui era da infami Ho di R8 Perder controllo Oh Sam Oh 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 Brutto 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 Cos'è era brutto Mamma mia Ok Attenzione Fuori Artegridio Mamma mia Cos'è era brutto Non ha voluto Fuori a passare Ma come ha fatto Quei a passare Vabbè Ok ok Fuori To Ma ha perso qualsiasi cosa Non c'è più niente dietro Vabbè Bandera Verdi Vai recomezzando la disputa Pella vittoria Già tem gente fuori da pista Oh fuori Oh si Vabbè Non ha fatto molto Ti abbia capito Ok Orco Anche botta Sergio Bueno Fui pro muro esterno Mamma mia Bruttissimo Oh No Quando ero in mezzo alla sala Eh lo sapevo Quando ero in mezzo alla sala Con queste macchine È difficile Formula Renault Hanno detto loro Quindi sappiamo che cos'è Oh Uno Due Tre Quattro Marche di colbote Cinque Uno contro il muro Sei Sette Uno è ripartito Mamma mia Sotto il dilubio Attenzione Oh Quelli Perchè Non mi piacciono Perchè Attenzione Quelli Stanno Raventando Porco Porco Che Che Botta Non l'ha visto È difficile Nessuno l'ha visto Che Botta Facundo Marche Terminò Contra Lo Cartelli Marche Ah Così Si è rotto Il motore Probabilmente E qui Si vede Lombordo Boh Guarda che Botta Eh Non ci poteva fare Niente Però Quello Lì È quello Che vedeva Quello davanti Cioè Non ha visto Niente Boh Muro Ok Sempre Orcocan Che Botta Mamma mia Brutto 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 Guarda che volta Bandera rossa Direi di sì Ah L'ha portato fuori Nel rettilineo Quindi erano anche Una velocità Molto Veloce Velocità Brutto Porco Cane E l'altro Dove è andato Minchia Questo qui è probabilmente Da un board Si è avvicinato Ma è scemo Ma porca Troia Che botta Almeno vedo che l'altro Si muove L'altro Non lo so Vabbè Uh Tensione L'altro Non ha frenato Molto Ritorpo All'interno Uh Uh Gli è passato sotto E sono così tanto Bassa Che stiano sotto Ok Uh È stato un po' Cosa c'è Un 206 Un Civic Non capisco Queste Queste Categorie Un 1 206 È risultato Anche Ok Drift Perché è iniziato Il Oh Can Che botta Da super È fuori Ok Vette fuori Tac Corvette fuori Ah Guarda qui Ferrari Che è preso fuoco Mamma mia Mamma mia Questo non è mai Bello Dove Vedere una Ferrari In fiamme Anche se Ne ho visto Un bel po' Aspetta che Metta un po' Di Luce in più Che non si vede Molto Federico Twin supercharged V12 Ferrari Qua c'è ancora Incendio Perfavori 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 Ok Ok Ecco perché Era attaccato Con lo scotto E non aveva perso Anche una ruota Oddio Indy Credo Mamma mia Perfavori Nascar 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 PING Contra il muro Venni Miller E tu puoi vedere Qua faste Le speed Sono qui O FedEx FedEx Contra Joey Logano Mi sembra Il tuo è Joey Logano A casa O O O O O O E Jimmy Johnson Mamma mia Questa è una bella botta Quella è E' I due Carri Che hai Tu hai Non Ti hai E' E' Muro Ho visto Perderò Un pezzo Ha perso Infatti Una ruota E' Ha perso Ok Harry Cross Questa è Il cappellato Chats Mi sembra Perché Quella Ascona L'ho già Vista Boom Contro Una barriera Di nuovo E se Prey Eh sì C'è 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 Una Una Scoda Però Stanno Avanti Vediamo La scoda Prende In fuor Via Attacca Vabbè Dai puoi E' Ripartire Non è Un po' La batteria Del mio Faretto Si sta Inevitabilmente Spegnendo Quindi Non ci sarà più Gucce Tra un poco Io vi rimando Ai prossimi video Che usciranno sul canale Tra l'altro devo mettere ancora Quello del kartcross E il best of E quindi Ci vediamo Ad un prossimo video